Il castello di Wawel, situato nel cuore di Cracovia, è un punto di riferimento storico e iconico che attira visitatori da tutto il mondo. Questo magnifico complesso del castello è di grande importanza nella storia e nella cultura polacca. Il castello di Wawel, spesso chiamato semplicemente Wawel, si trova su una collina che domina il fiume Vistola. La sua splendida architettura combina vari stili, tra cui elementi gotici, rinascimentali e barocchi. I dettagli intricati e la grandezza del castello lo rendono uno spettacolo interessante da vedere. Quando pianificate una visita a Cracovia, assicuratevi di includere il castello di Wawel nel vostro itinerario. Il suo significato storico combinato con una splendida architettura e un ambiente pittoresco lo rendono un'avventura indimenticabile per chiunque sia interessato al colorato passato della Polonia.